Buongiorno, buon martedì 16 maggio, il consueto benvenuti al primo appuntamento con l'informazione sulla 7 con la rassegna stampa, tra poco leggeremo le prime pagine dei giornali con l'argomento principale che è naturalmente legato ai risultati, sebbene parziali, delle amministrative che si sono tenute tra domenica e lunedì, si andrà al ballottaggio in molti comuni, 595 comuni interessati, milioni di italiani chiamati al voto, anche se poi l'affluenza ha fatto segnare un meno 2% rispetto alla tornata precedente, un test politico, un test che ha dato già dei risultati definitivi con 4 capoluoghi che sono andati o comunque si sono confermati in altri casi al centro-destra, 2 al centro-sinistra, naturalmente interpretazioni diverse, lo vedremo adesso a seconda della linea editoriale delle varie testate su questo risultato, ripetiamo, ancora parziale perché poi saranno i ballottaggi a definire in maniera completa la situazione. Naturalmente si parla anche del tour europeo di Volodymyr Zelensky che si è recato anche in Gran Bretagna e ha incontrato il premier Rishi Sunak e anche Sunak ha garantito appoggio e ulteriori armamenti. Sui giornali troveremo anche la notizia, una notizia interessante con la riapertura anche da parte della procura di Roma del caso legato a Manuela Orlandi, la ragazza scomparsa 40 anni fa sulla cui sorte, insomma c'è ancora un fitto mistero, la famiglia Orlandi e il fratello Pietro non hanno mai mollato l'intenzione di proseguire, di andare avanti per cercare di far luce su quello che è uno dei grandi misteri del nostro paese. Andiamo allora a vedere subito i quotidiani, iniziamo dalla Corriere della Sera, vedete centrodestra avanti nelle città amministrative, ancora Vicenza, Siena, Pisa e Massa, il ballottaggio, il PD siamo fiduciosi, ancora in calo l'affluenza. Tiene il centrodestra in peria, Treviso, Sondrio e prende Latina in maniera quasi bulgara. Centrosinistra Teramo e Brescia con la prima sindaca e qui vedete appunto i risultati, come vi dicevo Latina è andata al centrodestra con la sindaca Matilde Celentano, 70,4%, forse risultato più, come dire, eclatante. Sempre a proposito delle amministrative, nel suo feudo Ligure, Scaiola fa poker, vinco da solo a Imperia. Poi il commento di Francesco Verderami nel suo editoriale, i due verdetti, l'interesse di queste elezioni è il turno che verrà, cioè il secondo. L'esito del primo ha dimostrato che il centrodestra non ha esaurito la luna di Miele con i cittadini, mentre l'opposizione non ha usufruito per ora di un effetto Schlein. Di spalla il Corriere parla del discorso tenuto a Napoli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattarella e i magistrati prevenire il mal costume. Ancora dalla prima della Corriere della Sera vedete la fotonotizia con la mamma di Jessica, la ragazza uccisa dal padre, a Torre Maggiore in provincia di Foggia, la madre ai funerali in carrozzina, i fiori del fratellino, l'addio a Jessica, eri una piccola eroina, la ragazza che si era frapposta tra la mamma e il padre proprio per salvaguardare la mamma e ha trovato la morte. Zelensky, missili da Londra, assenza in malattie in Bielorussia, mistero Lukashenko e poi a Padova ha trapiantato un cuore fermo da 20 minuti, prima volta al mondo. Zaia, il governatore del Veneto, una nuova frontiera. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere Repubblica. L'onda di destra si è fermata, così Repubblica legge i dati delle amministrative. Il centro-sinistra si sofferma, si afferma, scusate, primo turno a Brescia, Teramo è in vantaggio a Vicenza e Siena, si punta la vittoria nei capoluoghi al ballottaggio tra due settimane. Al centro-destra spugge l'assalto ad Ancona, ma vince in quattro città, Latina, Sondrio, Treviso e Imperia. Schlein, la partita inizia ora, l'affluenza cala ancora di due punti. E la notizia che, insomma, dovrebbe rallegrarci tutti, arriva da Bruxelles, balso in avanti del PIL a più 1,2%, l'Italia meglio di Francia e Germania, ma solo per il 2023. Insomma, è una proiezione che porterebbe l'aumento del prodotto interno lordo a livelli veramente molto, molto importanti. Carmelo Lopapa, la lezione delle urne, la commento, il punto ricostituente psicologico di Stefano Fogli, sempre a proposito del discorso amministrativo. Nella rubrica Mappamondi, Turchia divisa, ma i lupi grigi spingono Erdogan e ancora giallo su Prigojin, presunto patto tra Wagner e Kiev, appunto questo presunto patto emerso dalla stampa statunitense. E siamo sulla stampa invece di Torino, la destra avanza, la sinistra resiste, elezioni Castelletti PD, vince a Brescia, Celentano, Fratelli d'Italia, Conquista Latina, tracollo ovunque dei 5 Stelle. Pubblicità e poi di nuovo rassegna stampa. Buongiorno, seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo ancora sulla stampa di Torino perché volevo farvi vedere come appunto il quotidiano torinese mette in evidenza i risultati ottenuti da due donne, Matilde Celentano a Latina con il 70,7%, Laura Castelletti del centro-sinistra a Brescia con il 54,8%. Ancora il caso Fazio, se ne parla, Zaccaria è peggio dell'edito bulgaro, dice l'ex presidente della RAE, il pugno di Salvini che detesta la cultura, il pezzo firmato da Roberto Saviano. Poi di spalla la guerra, Zeleschi a Londra, fa il pieno i droni, Putin porta in chiesa i tesori dell'arte russa. A centropagina vedete due fotonotizie, la prima è drammatica, torture per migranti, barbarie in Tunisia, volevano un riscatto, speravano di trovare una vita degna, il ragazzo ritratto nel video pubblicato sul sito della stampa, il Camero è arrivato in Tunisia ma l'Europa ha scelto di respingere. Traguardo per amici, questa è una foto che testimonia, è una storia di amicizia, di altruismo, uno corre con l'altro paralizzato tra le braccia, due protagonisti alla Maratona Elite, Kevin che solleva Rob, il suo amico malato, oltre il traguardo in braccio all'amico di sempre che lo ha spinto per 42 km e non è semplicemente un uomo che ne trasporta un altro per spingerlo a un risultato impossibile. Veramente una bella storia questa. Siamo sul giornale che punta l'attenzione di nuovo sul caso Fazio. La guerra della TV, titola il giornale, crolla il sistema Fazio, salotti rossi nel panico, intellettuali e politici sconvolti, addio a ospitate recensioni amiche, il conduttore milionario riesce ad attaccare la politica ingorda. Ma che rai meloniana? Restano report e berlinguer. Sull'argomento si esprime Paolo Guzzanti nel suo editoriale, l'antico regime televisivo si aggrappa ai suoi velluti. La lettura dei risultati delle amministrative che da il quotidiano diretto da Augusto Minzolini, comunale il centrodestra in testa, è spugnata Latina, vittoria a Treviso, Sondro Imperia, il PD esulta per Brescia, ma la vera partita sarà ai ballottaggi. Come dicevamo acquisiti gli atti del Vaticano, i PM riaprono il caso Orlandi, a 40 anni alla scomparsa, vedete un'immagine di Emanuela Orlandi. Il vertice sull'Ucraina, meloni tra i big d'Europa, registro dei danni a Kiev. Andiamo a vedere il messaggero, eccolo qua, città al voto, centrodestra avanti, quattro capoluoghi alle forze di governo, ma Brescia resta al PD, sette sfide al ballottaggio, Latina torna a Fratelli d'Italia, Terni la sorpresa, Bandecchi al secondo turno, Sgarbi viene eletto ad Arpino, Bandecchi che è insomma il vulcanico, come si usava a dire una volta, di presidente della Ternana Calcio. La ricostruzione, l'Italia centrale, l'occasione da cogliere nel post-sisma. Ancora Mattarella e richiamo alle toghe, prevenire il malcostume interno. PIL, Bruxelles, alza le stime sull'Italia, cresce più di Francia e Germania, così dal messaggero di Roma. Il fatto quotidiano invece torna sul tema delle nomine, riciclo continuo, alla destra non butta via niente, ecco tutto il peggio che ritorna, gli impresentabili Ferri, Scaroni, Brunetta, Siri, Cingolani e company. Sette mesi di merito, tra virgolette, magistrati da scandalo con Nordio, trombature flop, processi e conflitti di interesse che fanno punteggio. La non classe dirigente di Meloni e C. In taglio alto si parla di Ucraina, Zelensky Sunak, Patto sui droni, Gaf Macron, 5 comuni alle destre, solo 2 al centro-sinistra, qui il dato è leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo letto in precedenza. Siamo sul libero, gli orfanelli di Telecabul, anche il quotidiano di Alessandro Sallusti sceglie questo tema come apertura. Le brigate Fazio in crisi di nervi, da Letta a Saviano, la sinistra strilla per l'addio dello strapagato compagno. E qui la foto appunto di Ricoletta, Roberto Saviano, Rula, Gebreal. Il loro pluralismo è far tacere gli altri, scrive Vittorio Feltri che, sottolinea, Fabio invitava solo gli amici. L'effetto Schlein evapora nell'urna, il risultato dei comunali, la sinistra indietro pure ad Ancona e poi dati diffusi a Gentilonia, Bruxelles, l'Italia, il paese europeo che sta crescendo di più. Lasciamo anche libero, andiamo a vedere il sole 24 ore che dà risalto naturalmente alla notizia che arriva da Bruxelles con la più 1,2% di stima della crescita dell'Italia, colui che corregge il rialzo le stime. Made in Italy nasce il fondo sovrano politica industriale. Giovedì, il disegno di legge, scusate, in Consiglio dei Ministri, prioritarie energie e materie prime per il nuovo strumento, obiettivo un miliardo licei collegati ai distretti e poi ancora lavoro, arriva la piattaforma per incrociare domanda e offerta, sono naturalmente informazioni e notizie pubblica utilità. Andiamo a vedere il foglio. Il foglio affida ovviamente al direttore Cerasa una riflessione sempre sul caso che sta caratterizzando le sorti della TV di Stato, il caso Fazio, indignarsi per il complottismo non per l'occupazione del potere. Cosa può imparare la nuova RAI da due grandi scelte di Fazio e Maggioni, così Claudio Cerasa sul quotidiano da lui diretto. Andiamo sul manifesto. Comunali è un test a testa, il PD conferma Brescia e Teramo, ballottaggi decisivi ad Ancona, Vicenza e Siena. È ancora forte, denuncia Grida al manifesto in prima pagina. E chi è ancora forte? Re Sip, Erdogan, opposizioni unite, parliamo di Turchia naturalmente, crisi economica. Non scalfiscono il consenso di Erdogan con il 49,4%, strappa il ballottaggio e ipoteca, la riconferma. Chilice Daroglu accusa il governo di Brogli, ma alla destra si è già presa il Parlamento e anche in Turchia ci saranno i ballottaggi a fine mese appunto per stabilire se sarà ancora Erdogan a guidare il Paese, reduce da vent'anni di assoluto dominio, oppure potrà prevalere il suo antagonista. Provare la pace, dopo l'incontro in Vaticano, sintonia sui temi umanitari, il Vescovo di Chievo, avanti con il confronto. La diplomazia del Papa è in campo per il dialogo in Ucraina, la Cina manda l'inviato, Zelensky ottiene promesse di armi anche a Londra, decisioni importanti serve tempo. Turchia, Erdogan, scusate, portato al ballottaggio da Chilice Daroglu, ma resta favorito. Welfare anno zero, mancano i progetti, alle comunali il centrodestra resta avanti ma non stravince. Guardiamo anche la prima pagina della Nazione, voto per i sindaci, lo scossone non c'è e a centro pagina vedete una manifestazione appunto a supporto della famiglia Orlandi svolta su Emanuela. La procura di Roma torna ad indagare, dopo 40 anni il Vaticano collabora e fornisce gli atti di Emanuela Orlandi, la quindicena in cui si sono perse le tracce. Nel giugno del 1983 la famiglia chiede da tempo che Italia e Vaticano collaborino per scoprire la verità e certamente l'apertura da parte del Vaticano è un fatto importantissimo, fondamentale per far chiarezza su questo mistero. Tutti i dettagli del nuovo maxicontratto. Fazio ha mollato Mammarai per 10 milioni di motivi, scrive la verità di Maurizio Belpiedro. Fazio conta i soldi, Discovery l'ha blindato per 4 anni a 2,5 milioni l'anno. 600 mila euro più di Viale Mazzini. Tutto legittimo, chi governa all'onere di fare meglio la TV. Il giro piomba nel delirio Covid, la maglia rosa, Remco e Venepol si ritira e torna l'obbligo di mascherina. Positivo al Covid, Venepol si è ritirato dalla corsa nel momento in cui aveva riconquistato la maglia rosa. Governo al lavoro, scrive il tempo, fiducia nel ponte, l'esecutivo chiede alle Camere di votare il decreto e il collegamento sullo stretto. Salvini in pressing per l'opera, l'Italia intera e l'Europa l'attendono da decenni. Ha scommessa i Fiorello, lo attraverso nudo. Se lo fanno entro nove anni. Chiudiamo con la prima pagina della Gazzetta Eosport, perché stasera si gioca il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. L'andata vinsero i nero-azzurri 2-0, stasera il Milan si gioca tutto per tutto per raggiungere la finale di Istanbul. C'è maltempo nel nostro paese e chi meglio di Paolo Sottocorona può illustrarci quello che dobbiamo aspettarci. A lui cedo immediatamente la parola, ci rivediamo per la prima edizione del TG La Sette. A te Paolo. Grazie Roberto, buongiorno. Da questa immagine sembrerebbe che la parte più intensa della perturbazione, che è quella principale, questa che si trova ormai sulla penisola balcanica, fosse quella più intensa, mentre quella che riguarda l'Italia è la parte secondaria. Secondaria ma non più debole, perché gli effetti previsti sono, come giustamente si sta dicendo da tutte le parti, perché ci sono tutte le allerte del caso, piuttosto pesanti. Vediamo la previsione per la giornata di oggi. Vedete che possiamo escludere dalle zone a rischio, nel senso che qualche pioggia ci può essere, ma rischi no, Nord-Ovest, Sardegna, Sicilia, dove qualche pioggia c'è. Poi partiamo dalle zone del basso Tirreno, quindi Calabria, Campania, con fenomeni anche intensi, zone del centro con piogge estese, localmente intense, il colore giallo. E poi questa zona che prende parte delle Marche, ma soprattutto l'Emilia-Romagna, con questo colore che arriva al rosso, quindi sono quantità previste di pioggia complessiva molto elevate, siamo a livello di 100-150 mm nelle 24 ore, che è moltissimo. Piogge meno intense sembra sulle zone di Nord-Est. Sviluppo di questa situazione nella giornata di domani, in qualche zona il maltempo si attenua in parte sul Nord-Est, ma vedete che ancora c'è una fascia intensa che prende parte, non tutta, ma parte dell'Emilia-Romagna, le Marche, qualche zona del centro dove però i fenomeni a quel punto diventano molto isolati e ancora una volta il medio-basso Tirreno, quindi di nuovo parte della Calabria-Campania con precipitazioni intense. Sulle altre zone una certa attenuazione del maltempo c'è. Arriviamo alla giornata di giovedì in cui i fenomeni intensi rimangono sulle zone centrali, soprattutto sulla parte adriatica, sulle altre zone piano piano si attenuano. C'è ancora qualche pioggia sulle miglie, soprattutto sulla Ramagna, ma a questo punto sicuramente meno intensa. Però ci sono queste prime 48 ore che sono sicuramente critiche. Vediamo le temperature di questa mattina. Non è che ci sia aria fredda, ma certo i valori non sono sicuramente elevati, data la copertura del cielo, le piogge e tutto quello che sta passando. Stato dei mari, beh anche questo parla da solo perché il colore rosso indica il mare agitato, il giallo molto agitato e vedete che troviamo queste situazioni molto frequenti sui nostri mari, insomma dove va bene. È molto mosso. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Roberto Bernabai. Da più tardi. Grazie. Grazie. Grazie.